Martina Alcini, team francese nella corsa più importante del mondo, che emozione è? È un'emozione incredibile, ieri ho detto, penso che per qualsiasi atleta essere anche solo a partecipare qua è un'emozione unica e questo è un giorno storico per il turismo femminile, ma ancora di più per il mio team perché è l'incoviti settimo anno che apre il settore alle donne e quindi, wow, belle dopo, da piccolina avresti mai pensato di partecipare a un tour de France? Guarda, sai che in verità, no, nel senso, sembrava un sogno talmente lontano, un po' come l'Olimpia che sai da piccolina dicevo voglio fare l'Olimpia di ma sai quando hai 6-7 anni non sai bene poi cosa andrà a fare da grande L'anno scorso la partecipazione all'Olimpia di quest'anno la partecipazione è pure riempie d'orgoglio penso me e anche la mia famiglia Grazie mille